Buonasera ragazzi, ci troviamo all'inizio di una grande manifestazione sportiva tra due grandi colleghi e amici Marco Tomaselli il favorito e Bianchini Giacinto l'anziano Noi siamo i tre giudici, io sono Paolo, Davide, Gianmarco E vi faremo la telecronaca di questa durissima tappa che partirà da Cadenazzo Al piedi del Monte Ceneri fino alla Vetta Fino alla Vetta, oggi è una giornata piovosa, speriamo che alla cima non nevichi essendo temperature molto rigide E la gara sarà in diretta integrale Integralissima e alla prossima dai, buona visione, ci vediamo Ciao Ciao Sì, pronti alla patenza tra i due grandissimi titoli di parte internazionale E 3, 2, 1, via! Vanno e dopo! Dai Marco! 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 Lei Marco! Sei couldentù a mezzo Mazzelli è in fuga È partito Dai Marco! 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 Giovanni! dai marco dai marco dai domazelli 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 attenzione attenzione domazelli è partito sono di nuovo alla pari i due concorrenti Bianchini vi accinto sempre a ruota per sfruttare la scia di marco la salita ormai quasi finita ci sarà un pezzo piano poi il traguardo prevede una volata il passo come vedete è molto precedente ma la salita è anche molto finita non c'è ancora capire chi è arriva una bicicletta è una luce che lampeggia potrebbe essere solo Tomazelli sicuramente macchine destra e sinistra le miraglie vengono fatte accostare sulla destra arriva lui Giancinto Giancinto vince lui vince lui il primo confronto bravo Giancinto Giancinto deve girare ha sbagliato strada attenzione attenzione oltrepassare il city vince lui vince lui vince lui arriva anche Marco Tomazelli il traguardo il traguardo il traguardo il traguardo bravo Marco grande Tomazelli ha giocato con me ha giocato con me Giacci era lì si fermava due volte vabbè vabbè bravo Marco quando mi sono ci sono piacere erano vabbè le